Nel giorno in cui la Duma russa si appresta a sancire ufficialmente l'annessione di una parte di Ucraina, dopo i risultati di un referendum ritenuto inaffidabile e falsato dalla comunità internazionale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella notte ha invitato il suo popolo a non arrendersi. Domani è un altro giorno, intendendo oggi, ha detto nella nostra lotta, un altro giorno sulla via della vittoria sarà speciale per noi, sarà un altro giorno che ci avvicinerà la sicurezza e la pace, al ripristino della nostra integrità territoriale, perché milioni di ucraini combattono e lavorano per questo. Domani si terrà una riunione speciale del Consiglio Nazionale di Sicurezza e Difesa che ho convocato, ci saranno decisioni, sappiamo come reagire a qualsiasi azione russa.